Ehi sì, tu, proprio tu, ascoltami attentamente perché è una cosa veramente importantissima da dirti. Infatti per questa stagione 5 sto aprendo un secondo contest che ha visto già un primo vincitore e il prossimo potresti essere proprio tu. Tutto quello che dovrai fare per essere messo all'interno del contest è iscriverti subito al canale e attivare la campanella delle notifiche. Dopodiché rompere di mi piace questo video per farmi capire che sei contento sia dell'estrazione che del contest. Poi dovrai commentare sotto questo video scrivendo hashtag contest. Stato tutto questo entrerai automaticamente nella lista e il prossimo vincitore potresti essere proprio tu. Ciao ragazzi, bentornati in un mio nuovo video di Sonneton19. Ragazzi eccoci di nuovo in un altro video di Fortnite. Mi scuso veramente tantissimo per la mia voce ma non sono a casa e quindi l'acustica è un pochino così. Quindi mentre parlerò sentirete una sorta di rimbombo. Comunque sia oggi siamo qui con un video veramente molto particolare perché vi andrò a far vedere come cambiare i nomi su Fortnite. Ma soprattutto come usare i nomi dei youtubers direttamente nel gioco. Vi metto fin da subito che è una cosa veramente semplicissima, vi lascerò dei link sotto in descrizione per fare tutto. Prima di incominciare però vi invito a tutti a lasciare un bel pollicione in su per supportare il mio canale. Se non siete ancora iscritti fatelo, attivate anche la campanella perché è veramente molto molto importante. E ultimissima cosa mi raccomando se non siete ancora entrati nel contest andate a vedere le prime parti del video. Detto questo io direi subito di partire. Oramai sappiamo tutti che è possibile cambiare i nomi su Fortnite. L'unica limitazione che abbiamo è solamente quella di aspettare due settimane tra un cambiamento e l'altro. Questo quindi ci dà la possibilità di cambiare in maniera illimitata i nomi su Fortnite. Ma quante volte ci sarà venuto in mente di cambiare i nomi come ad esempio quello di Ninja o quello di NottyFoe. Che sono in assoluto i migliori giocatori di Fortnite al mondo. Che ne so magari per poter trollare i vostri avversari o ad esempio per trollare i vostri amici. Però il grande problema è che non possiamo usare i nickname che sono già usati da altre persone. Quindi ad esempio non potremmo tenere il nome di Ninja se il nome di Ninja è proprio questo. Quindi dovremmo trovare o un altro modo per scriverlo oppure cambiare nome. Ma nel tutorial che vi farò vedere oggi vi farò vedere l'unico metodo funzionante per usare i nomi degli YouTubers o di qualsiasi altra persona su Fortnite. I passaggi da fare sono veramente semplicissimi ma c'è il rischio che se magari non seguite tutti i passaggi non riuscirete ad ottenere il vostro nome. La prima cosa che dovrete fare sarà connettervi direttamente sul vostro pc nell'Epic Games Launcher. Poi dovrete cliccare in alto a destra dove ci sarà la voce gestisci il tuo account. Fatto tutto questo dovrete semplicemente andare nella voce nome e andare a cancellarlo. Poi dovrete aprire una nuova pagina di internet dove andrete a mettere il nome che volete usare come nome di prova. Fatto questo dovrete andare direttamente nel link che vi ho lasciato sotto in descrizione per andare nella tastiera russa. Da qui andate a copiare direttamente le lettere che vi serviranno per andare a sostituire il nome NOTTFUE e andate a copiare a incollare. Fatto questo dovremo ritornare nella pagina del nostro account per controllare se il nome si può usare. In questo caso come vediamo non si può e per questo dovrete andare nel secondo link che vi ho lasciato sotto in descrizione che vi lascerà altre lettere. Quindi da questo nuovo link dovrete andare direttamente a copiare e incollare le lettere che vi serviranno ad esempio la lettera T che vi servirà per andare su NOTTFUE. E una volta sostituita la T che è una lettera che sinceramente non è uguale a quella di NOTTFUE ma è molto simile e nel gioco non si capisce. La cosa più importante è che il gioco o per lo meglio dire l'Epic Games Launcher non ve lo darà come nome già usato. Fatto anche quest'altro passaggio dovrete andare nell'ultimo link che vi ho lasciato sotto in descrizione che vi lascerà questa pagina. Da qui potrete andare direttamente a copiare e incollare dei caratteri che sono completamente invisibili. Che però l'Epic Games Launcher conterà come dei caratteri normali quindi come delle lettere normali cambierà solamente che sono invisibili. Vi anticipo fin da subito che questo video non è mio e quindi l'ho preso da un altro youtuber americano che ringrazio per avermi permesso di condividere questo video. E vi dico che dato che quel video l'hanno visto già tantissime persone dato che abbiamo questi caratteri invisibili mi raccomando mettetene veramente tanti perché le altre persone hanno fatto la stessa cosa. E fatto questo voi andrete direttamente a confermare il nome e l'Epic Games Launcher ve lo darà come nuovo nome. E quindi fatto tutto questo potremo finalmente usare il nome che abbiamo scelto direttamente nel gioco. Però raga questo metodo ve lo sto facendo vedere solamente per troll quindi mi raccomando solamente per trollare i vostri amici e basta. Quindi una volta che avete finito di trollare i vostri amici mi raccomando cambiate il nome e riprendete quello che avevate prima. Quindi raga io spero che questo video vi sia piaciuto se è restato iscrivetevi commentate e lasciate un like. Spero che questo video tutorial vi sia piaciuto anche perché è funzionante al 100% quindi mi invito fin da subito a scrivere qui sotto nei commenti. Io mi scuso veramente tantissimo ancora una volta per la mia voce ma ragazzi non dipende da me non sono a casa mia e quindi mi raccomando lasciate un bel like per supportarmi. E noi ci vediamo nel prossimo video. E noi ci vediamo!